vediamo un po' che elefante mi sta diventando piccolo anche il maggiorino ma si devo dimagrire o cambiare mezzo allora intanto mettiamo la mappa facciamoci i cavoli suoi io non ti dico dove abito mai mai ciao mamma comunque al primo colpo parte sto mezzo sono i tuoi 40 e rotti anni senti come gira senti come gira ah beh solo trovi una macchina che ha più di 50 anni e ancora cammina la delta è più piccola della mia è vero è vero ciao mamma ciao fabrizio ciao mamma하上 a tutti e vi fa un piacere quanto ditano ciao e luci